Hi guys, amici oggi siamo qua in palestra e faremo una bellissima challenge con i favoli altre volte sei messo due minuti gara di stop ok guardiamo vieni Enric facciamo l'arbitro vai 0 mamma mia niente 1 ale grande ecco 1 0 1 no è sempre a 0 no questo non è buono sculata niente nulla chi arriverà prima a 5 a 5 perché mi sembra che poi si vede semmai si fa la super finale ma perchè? niente 2 marco marco comincia ad andare in testa in testa alla classifica marco si tutti a 1 marco a 2 no tutti a 1 lui è a 1 ora si lorenzo 1 ora cesare a 0 no cesare a 1 ma che ha fatto io? no cesare sei a 0 si no cesare a 1 no ce l'ha a 0 2 1 2 o 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 Poi prendi il tappeto. No, non è buono questo. Sì, buono. Lorenzo, oggi non c'è. Non viaggia. Cesare ha? Uno. Tre? No, due. Tre, tre. Non è buono. Buono Francesco, va a tre. Nada. Due. Niente. Ale a uno. Si è liberato. Marco va a tre. Quattro. Quattro. nulla 3 anche lorenzo siamo vicina al podio vediamo se arriva a 4 Ale e Ale fa 4 vai vantaggio vediamo Marco e anche Marco va a 4 e anche Francesco va a 4 super sfida sempre più emozionante lorenzo casca vediamo se fa niente 2 vediamo se fa il quinto fa il quinto però per ora no per ora è primo per ora è primo bisogna avversi gli altri 5 Francesco sono a pari merito nooo vediamo chi va niente Marco 5 pari c'è lo spareggio se gli altri non arrivano a 5 anche gli altri il primo che arriva a 6 ha vinto nulla lorenzo è sempre a 4 e arriva a 5 a 4 a 4 Alessio deve arrivare a 5 Alessio arriva a 5 3 spareggi quando arrivate a 6 lui è riuscito a arrivare a 6 comunque perché voi non ce la facevate quindi ora 3 persone possano vincere Marco a 6 guardiamo gli altri due se riescono a arrivare a 6 Francesco nulla Lorenzo è a 4 potrebbe arrivare a 5 niente Alessio è a 5 potrebbe arrivare a 6 e niente quindi il vincitrice ha fatto un passo indietro il vincitrice di questa grandissima sfida chi è stato? Marco ci vedi Marco? ballettino di vincita non ce l'hai? ok il prossimo video ci farei vedere il tuo ballo io lo conosco il suo ballo quando vinci non ce l'hai?